Il corso di formazione dedicato ai blog didattici illustrerà alcuni aspetti. Innanzitutto, cosa sono i blog didattici? Sono dei siti particolari che possono essere sfruttati con estrema efficacia in ambito didattico. Si tratta essenzialmente di blog, quindi di siti particolarmente noti già da qualche anno, che tuttavia con particolari accorgimenti hanno un'estrema utilità come siti didattici ad uso personale. Il blog infatti è essenzialmente uno strumento personale, poco si presta a uno strumento collettivo. Si gestiscono come normalissimi i blog, infatti hanno un pannello di amministrazione che tuttavia dopo l'impostazione iniziale viene raramente utilizzato e hanno un funzionamento estremamente semplice. Consentono i blog, diversamente dai social network, diversamente da altre metodologie, praticamente di fare online tutta una serie di attività, in quanto si può intendere il blog come un contenitore di tante altre cose. In questi ultimi anni è, per esempio, particolarmente diffusa la Flipped Classroom, la quale tuttavia si deve appoggiare a dei siti, oppure per esempio il Digital Storytelling, il quale a sua volta si deve appoggiare a dei siti. Ecco, il blog può essere inteso come una sorta di raccordo di tutti questi siti. Negli ultimi anni infatti ci siamo accorti che utilizziamo tante risorse online. Si utilizzano fino a 10-15 risorse online più o meno costantemente, pensiamo a Dropbox o ai siti del cloud, o a siti utili per la Flipped Classroom, o a siti utili per i video, siti utili per i PowerPoint. Ecco, il rischio è che questi siti siano molto dispersivi. Il blog può essere inteso come una sorta di raccordo di tutti questi. Come usarli in ambito didattico? Occorre una semplicissima iscrizione che è molto simile a un'iscrizione che facciamo per attivare un profilo mail. È necessario, almeno in fase iniziale, un setting del sito. Questo è l'aspetto un pochino più tecnico che tuttavia può essere svolto insieme e serve a dare una veste grafica al blog. Ed è anche un aspetto che, impostato una volta, non occorre modificare costantemente. E poi si è pronti a utilizzarlo. Quindi possiamo caricare i nostri materiali, dei nostri interventi, per esempio dei nostri testi, eventualmente anche delle nostre comunicazioni. Dopo aver dato naturalmente il link del blog a quanti dovranno seguirlo, prevedibilmente studenti e magari colleghi. Si possono anche collegare i blog ai nostri social network. Questo farà in modo che ogni articolo pubblicato nel blog sia automaticamente pubblicato in un eventuale nostro profilo social, come Facebook o Twitter, per esempio. Quali sono i vantaggi dei blog didattici? Innanzitutto consentono ogni tipo di operazione online. Per esempio, se noi carichiamo dei materiali su un sito in cloud, penso a Google Drive, nel blog possiamo inserire il link diretto a quel download, altrimenti siamo costretti a spedire via mail ai ragazzi quel link. Oppure se vogliamo far vedere ai ragazzi un determinato video di YouTube, al posto che dare il link a quel video, inseriamo quel video dentro il nostro blog. Peraltro in questo modo, e la cosa non è secondaria, evitiamo tutti quei video consigliati, che spesso sono anche piuttosto imbarazzanti, sempre attorno al video da noi scelto. Oppure un altro esempio può essere questo. Troviamo un PDF interessante su internet. Ecco, inseriamo nel nostro blog il link a quel PDF. Quindi abbiamo visto che tre risorse molto diverse, PDF, i video o i nostri file, all'interno di un blog possono essere facilmente tutti raccordati. Poi un altro aspetto interessante è che il blog, essendo una specie di bollettino, e da cui prende il nome, log, in termini informatici è una specie di bollettino di operazioni, tiene traccia di tutto quello che facciamo. Ha un ordine essenzialmente cronologico il blog. Quindi questo vuol dire che scorrendo dall'alto al basso ricostruiamo tutte le nostre attività svolte nel corso delle settimane, dei mesi o degli anni. E quindi anche un modo per documentare la nostra attività professionale in classe o extra aula. Un altro aspetto interessante è che il blog è quello di dematerializzare i nostri contenuti, i nostri materiali. Che vuol dire? Vuol dire che se fino ad oggi abbiamo consegnato ai ragazzi dei documenti, magari scritti da noi, su fotocopia, nel blog è possibile caricarli in formato elettronico. Questo è molto utile per i documenti che non necessitano di essere conservati, per esempio delle letture, degli articoli, che in genere dopo una lettura non hanno la necessità di essere archiviati. In questo modo noi dematerializziamo i documenti, i file, che possiamo di volta in volta consigliare ai ragazzi. E poi infine i blog, che non nascono come strumenti di comunicazione, non sono strumenti social per loro natura, permettono una comunicazione efficace perché se collegati opportunamente a dei social network, ad ogni post del blog, cioè ad ogni articolo pubblicato nel blog, comparirà in modo totalmente automatico quell'articolo su Facebook magari o su Twitter. E in questo senso possiamo favorire la nostra comunicazione con l'esterno. Se non disponiamo di social network, in ogni caso è possibile per un utente iscriversi al blog. Questo farà sì che ad ogni articolo quell'utente verrà notificato della novità di ciò che è stato caricato. E possiamo scegliere anche varie modalità. Si può essere notificati una volta a settimana, una volta al mese, una volta al giorno a determinati orari, in tempo reale. Sceglieremo quindi la modalità a noi più congeniale in base al pubblico che riteniamo di avere. Così impareremo nel corso. Innanzitutto ad aprire, iscriversi, impostare, e queste sono operazioni che si fanno proprio una volta, e poi usare il blog che invece richiede diverse operazioni. Caricamento di video, caricamento di testi, caricamento di immagini per esempio. Impareremo quindi soprattutto questo aspetto che è quello che si usa nella stragrande maggioranza dei casi quando si ha a che fare con i blog didattici, cioè caricare i contenuti. Contenuti non vuol dire per forza nostri contenuti, può significare anche contributi reperiti online. E poi, se necessario, potremo collegarlo a una rete di servizi che possono essere, abbiamo detto, i social network o anche il cloud. Per esempio, possiamo fare in modo che il nostro blog ospiti dei file che risiedono materialmente nel nostro account Dropbox, nel nostro account Google Drive, nel nostro account box.com, cioè nel cosiddetto cloud, senza fare in modo che gli utenti finali vedano da dove si è tratto quel file. E questo è anche un modo di semplificare la comunicazione e la condivisione dei materiali. Cosa è necessario per questo? Inevitabilmente una connessione ad internet, un browser di PC, smartphone o tablet. I blog oggi sono completamente gestibili da smartphone e tablet, anche se le operazioni di avvio, quella di iscrizione, di setting, è più rapida attraverso un normale computer. Ma la gestione poi, questo non è secondario, di un blog oggi è totalmente fattibile via smartphone o tablet. Ed è necessario naturalmente registrare un proprio account presso i siti che ospitano blog. Gli strumenti online che vedremo sono Wordpress, che è forse uno dei più noti, se non il più noto, il più avanzato sito per creare blog. Lo si riconosce perché tutti i blog ospitati da Wordpress hanno un indirizzo di questo tipo, www.nomedelblog.wordpress.com. Questo rende peraltro anche completamente gratuita l'ospitalità all'interno di questo blog. Piccola parentesi, se vogliamo trasformare il dominio in un nostro dominio, quindi al posto che www.nomedelblog.wordpress.com vogliamo un dominio del tipo www.nomedelblog.it, Wordpress è comunque utilizzabile ma a quel punto dovremo acquistare uno spazio online che ha un costo di circa 15-20 euro all'anno. In questo modo nel link non vedremo la scritta wordpress.com perché non siamo ospitati fisicamente dai server di Wordpress. Poi vedremo anche altre piattaforme come Blogspot, che è di Google o Tumblr, che è una piattaforma di blog piuttosto semplificata ma comunque efficace e molto usata dai ragazzi. e anche Google Sites, che consente di fare siti in realtà più che blog. È meno adatta delle altre ma utile per chi adopera l'ecosistema delle Google Apps, quindi Gmail, Calendar, Drive, YouTube e molte altre. Numero di incontri, e le ore consigliate sono 9-12. Questo per un pubblico diciamo poco esperto, un pubblico più esperto potrebbe forse con un numero di ore pari a 9 già essere completamente in grado di gestire totalmente un blog. Il numero di incontri quindi di conseguenza può essere fra i 3 e i 4.